Le mandorle, che sono un altro alimento molto importante, sono molto ricchi di oli essenziali. Ecco, ahimè, anche qua ci sono dei grossi problemi, perché quando si dà indicazione di mangiare qualche mandorla al giorno, o qualche noce al giorno, o, 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 le persone vanno in ufficio con il sacchettino di mandorle, e poi insomma i problemi sono importanti. Studiando l'energia del cibo, ahimè, so dove vanno a finire questi problemi, e generalmente mi riferiscono che o ci sono dei bruciori in posti nascosti, oppure se c'erano delle emorroidi si rifanno risentire. Quindi state molto attenti a non esagerare con la frutta secca, come per tutto il resto.